Ed è gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Vasto in Piazza della Concordia. Due pedoni sono stati investiti, anzi due donne, sono state investite da un'automobilista di 49 anni all'interno del parcheggio di una farmacia. Per uno dei due, una donna di 64 anni, Maria Di Stefano, non è andato a buon fine il tentativo di salvarla. La donna infatti è morta dopo il trasporto all'ospedale di Pescara con l'eliambulanza. Un'altra donna investita è in condizioni meno serie. Le cause di questo investimento sono ancora da accertare. Sembra che l'automobilista abbia avuto un malore alla guida e infatti è anche lui ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara.